Dopo la marcia per la pace di 4.000 studenti e l'inaugurazione dell'Arena di Giannini, alvia il cartellone culturale di Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, che giunto alla sua ottava edizione quest'anno riflette sul tema scommettere sulla fiducia, averla, riceverla, perderla e ritrovarla. Direttamente dalla sua Sicilia a Rondine è arrivato anche Piff, Pierfrancesco Di Liberto, tornato dopo due anni alla Cittadella che aveva lanciato sulle onde radio e riprende la riflessione di allora. La cosa bella è che mi è capitato in passato, cioè di conoscere una realtà attraverso la telecamera e poi tornarci senza telecamera, devo dire che è una bella sensazione, approfondire quello che hai gustato ormai due anni fa. Dei conflitti, la realtà io credo che dovrei iscrivermi a stare due, tre anni, forse anche cinque, forse anche dieci, perché io credo di vivere il conflitto come una ricerca per la giustizia dentro di me, quindi certe volte penso che il conflitto sia necessario, però metto sul piatto questa mia sensazione, questo mio modo di vivere il conflitto. Nel pomeriggio anche il panel, le sfide della scuola nell'epoca digitale, tra realtà e virtuale, digitali e analogico, tradizionale e innovativo. È ben detto sfide, perché è sicuramente la scuola quella che deve assumersi la responsabilità, l'impegno di una sfida e le sfide vanno sempre prese per quelle che sono e quindi mettersi in gioco. Non è detto che si vinca una sfida, ma non è detto nemmeno che si perda, va giocata. In questo momento siamo in una fase in cui non conosciamo l'intelligenza artificiale, in cui siamo veramente ancora gli antipodi, riusciamo solo a intuire di cosa stiamo parlando. Alla scuola il compito sicuramente è di cavalcare l'onda e di non farsi invece sommergere dall'onda e quindi abbiamo bisogno di un esercito, come avrebbe detto Gesualdo Bufalino nei confronti della mafia, un esercito di maestri per combattere la mafia, oggi abbiamo bisogno di un esercito di maestri che sappia accompagnare questa sfida verso l'intelligenza artificiale, verso un nuovo modo di essere digitali. Grazie per la visione!